Come ogni anno nel Comunicare Domani il Media Hub ha presentato la sua visione del mercato. Abbiamo raccontato la chiusura del 2024 e abbiamo segnato le prime prospettive per il 2025. Abbiamo dato una visione completa del mercato, della comunicazione per il 2024, quindi comprensivo dei media tradizionali e anche di tutta la componente experiential market. Per quanto riguarda il mercato pubblicitario tradizionale, lo stimiamo in crescita del 5,8% rispetto al 2023, quindi significa 10 miliardi e mezzo, trainati fortemente dal video. Abbiamo dato una fotografia che noi consideriamo più attuale dei rapporti di forza tra le componenti che rappresentano il mercato, suddiviso per audio, video e testo. Per quanto riguarda il mercato dell'experential market, invece abbiamo stimato che potrà chiudere l'anno a 4 miliardi e 2. Per il 2025 la nostra visione è alquanto non è chiarissima ancora, nel senso che siamo preoccupati di alcuni segnali deboli e siamo preoccupati per la tenuta dei consumi. Per tale motivo prevediamo una crescita, ma una crescita un po' calmierata rispetto al 2024, pari a un più 1,9%. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti